Svelato in anteprima il nome del vincitore del Grande Fratello, ecco chi si porterà a casa il Montepremio di Canale 5 L'ultima puntata del reality show sarà trasmessa lunedì 25 marzo, eppure a quanto pare l'identità del Jeffino che tornerà a casa vittorioso dopo i lunghi mesi trascorsi nell'oft di Cinecittà è già noto e bene informati La finalissima era attesa per il 4 aprile ma poi è stata anticipata di circa 10 giorni, e prima ancora che le telecamere dell'oft di Cinecittà si siano spente, in via inedita e ancora ufficiosa è stato reso noto il nome concorrente che avrà la meglio Scopriamo chi sarà il vincitore del Grande Fratello 2024 secondo le fughe di notizie e i primi scoop, vi sorprenderà Grande Fratello, chi vincerà l'edizione 2024.Il Grande Fratello dal 2023 al 2024 è stato un programma discusso, atteso, commentatissimo sia sui canali social che sulla carta stampata, e con grande dispiacere di alcuni, ma somma gioia di tanti altri sta per finire La domanda che tutti si fanno, dopo ben sei mesi di diretta tv è, chiaramente, chi vincerà tra i geffini Ad arrivare in finale sono stati Greta Rossetti e il suo quasi partner Sergio Dottavi, Rosi, Perla Vatiero, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Simona e Letizia Saranno dunque loro a sfidarsi a suon di televoto.Oramai ci siamo, il Grande Fratello sta per andare in onda con l'ultima e imperdibile puntata di questa edizione Chi vincerà? Stando alle quote dei siti di scommesse il nome del vincitore di questo Grande Fratello c'è già Da quando è iniziato il Grande Fratello 2023-2024 infatti, uno dei nomi più pronunciati quando si parla di finale è quello di Beatrice Luzzi L'attrice ha diviso il pubblico tra chi la ama alla follia, e ne apprezza il carattere franco e schietto, e chi invece la vede come una stratega e un personaggio che ha messo fin troppa zizzania nella casa più spiata d'Italia fin dal principio del reality show A quanto pare è proprio lei la favorita anche secondo i pronostici, Snay la dà a 1.25, Sisala 1,33 e Goldbea 1,40 Al secondo posto troviamo l'ex volto di Temptation Island per la Batiero Lei ha il supporto dei fan che l'avevano già conosciuta durante il viaggio nei sentimenti di Filippo Bisciglia, e ha dalla sua anche i seguaci di Mirko Brunetti, e della coppia A quanto pare lei è quotata a 3,50 secondo Snay e 4 su Sisala e Goldbea